Uomini e donne, Mattia e Desiree insieme nello stesso programma, A Pace Uomini e donne, Mattia e Desiree vicini nel salotto di signorini. Dopo Uomini e donne, Mattia Marciano e Desiree Popper si rivedono. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi rispettivamente nei ruoli di corteggiatore e tronista. Il Marciano era sceso dalle scale per corteggiare sia Desiree che Rosa Perrotta. Mattia, però, ha deciso di dichiararsi solo per la Popper. Insieme iniziano un percorso, che però vede solo il Marciano affiatato. Infatti, l'ex corteggiatore si era mostrato molto preso da Desiree. . Purtroppo, quest'ultima prese la decisione di lasciare il programma da sola, senza fare alcuna scelta. Ciò riuscì a mandare su tutte le furie Mattia, il quale avrebbe voluto intraprendere una conoscenza fuori, lontano dalle telecamere, al contrario di Desiree. . Ora, dopo molto tempo, la Popper e Mattia si sono rivisti a Casa Signorini, dove volti noti dello spettacolo si incontrano per parlare del gossip e dei vari programmi televisivi. . Ciò che ha stupito il pubblico è il fatto che i due fossero seduti vicini sul divanetto del salotto. . . Tra Mattia e Desiree non corre sicuramente buon sangue, dopo quanto accaduto nel programma di Maria De Filippi. Sicuramente il Marciano ha poi avuto la possibilità di avere un riscatto, iniziando un nuovo trono, attraverso il quale ha iniziato una relazione con Vittoria De Ganello. . Forse, a distanza di tempo, Mattia non nutre alcun tipo di rancore nei confronti della Popper. . Pertanto, per loro potrebbe non esserci stato alcun problema a stare seduti vicini. . Il pubblico ha cercato subito di richiamare l'attenzione di Vittoria, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato che fosse fuori dal salotto di signorini. . C'è anche chi crede che non ci debba essere dell'astio tra due persone che hanno avuto questo tipo di problemi. . Mattia e Desiree, torna la pace dopo Uomini e Doni. Mattia e Desiree hanno anche appassionato il pubblico di Canale 5, sebbene molti avrebbero voluto vedere l'ex corteggiatore a fianco di Rosa. . . Nel frattempo, anche un altro spasimante della Popper ha scelto di darsi ancora un'altra possibilità. . . Stiamo parlando di Mariano Catanzaro, il quale è da poco salito sul trono. . 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